Di cosa? Di muffin? È molto meno bello di questo bambinone. Non diamo degno onore a questo ragazzo qua. Ma quanto siamo belli, che di voi, diglielo a mamma Felicia che sono bellissimo io. Io sono un cane bello, bello naturale. Questo è il suo lato migliore, devi andare dall'altra parte. Ma quanto sono belli?